Ciao GymFamily! Ciao! Bentornati in questo nuovo video! Oggi giocheremo a Mosca cieca insieme! Dove sei? Eccoti! Per il gioco abbiamo a disposizione questa benda. Chi comincia? Io! Voglio mettermi la benda, si! Ok! Chi aspetta le luci? Il gioco abbia inizio! Io ti devo prendere? Si, mi devi prendere per vedere dove sono! Ti sento! E' più facile perché la sento! Chiudo anche gli occhi! Non mi prenderai se parli di sette! Sì! No! Non mi prenderai se parli di sette! Per parlare! Ti ho sentita! Per fartela fare più facile! Non è vero! Vuoi inbrogliare dicendo bugie? No, no! Non dico bugie! Ok! Chiudi anche gli occhi perché si vede un po' da sotto! Oddio! Voglio vedere! Io non parlo! Sono più furba! Ok! Bene! Cosa sta facendo? Mi senti? Sono qui! Sono qui! Sono qui! Sono qui! Sono qui! Oddio! Mi stavo per prendere! Ancora no! Oddio! Sono qui! Dietro di te! No! No! Aspetta! Dietro di te! Oddio! Oddio! Puoi cadere un quadro! Devolgete! Corri! Corri! Vai! Oddio! No! Mi hai preso, sì o no? No! No! Devo mettere tutta! Io ho visto che mi è toccata! Dove sei? Ah! Ok! Ok! Ti ho presa! Guarda che mi avevi già toccato! Ma non te ne sei accorta! Mi è toccata tipo qui! Me ne sono accorta! Ovviamente non si accorta! Ok! Adesso ritocca a me! Oddio! Non riesco a metterla! Ok! Iniziamo! Allora! Sicuramente vincerò anche qui! No! Perché si manca! Aspetta! Ma! Ma questa sono io! Ma! Avevo toccato qualcuno! Pensavo che la zina era! Ci sento! Non vuole andare sul divano? No! Ok! Questo! Ok! Si è al divano! Ci sento! E' un figlio! Ma! Vai avanti! Dove sei qui! D'avanti nel mio ogello! E' un figlio! Che외 là c'è! Che fai du! Iffi! L'hovere! E' il t'acqua! Forza, vieni! Vieni qui! Ma dove sei? Vieni qui! Vieni qui! Vieni qua! No! Io ho preso! Ok, ho vinto anche la nostra volta. Adesso vediamo io, eh! Tu non sai giocare! Lo sanno tutti chi è la regina di questo gioco. Dai, ditelo, ditelo. Ammettetelo, lo so, grazie, grazie. Abbiamo aggiunto degli ostacoli. Vediamo chi si farà male. Come degli ostacoli? Dai, non vale così! Che vale? Cioè, il gioco, se no, è gioco semplice. Allora, iniziamo. Eh, io ho paura adesso. E che ostacoli avete messo? Cos'è? Guardate che non devi prendere gli ostacoli. Devi prendere me. Ricordatelo. Ma qua c'è una sedia. Sono davanti a te! Dai, cammina! Non c'è… No… Sì, così… Cos'è? Dove sei? Tanto ti… ti trovo. Com'è che mi sento? Prima è nata in vita e non è possibile. Dove sta? Oddio, guarda. Sono un ninja, un ninja! Sono troppo forte. Io sono imbattibile, il mosca c'è. E intanto ho vinto il randine. E intanto prendimi. Ma si vedi sì o no? È tutto vero, come faccio a vedere? E perché prima stavi girando intanto come se mi vedessi? Perché sento il rumore dei passi. Forbetta. Guarda, qua c'è solo un caldo. Cos'è? No, questa è la mamma. È la mamma? Sì. Non è vero! È la mamma! Non prenda! No, lo dice il mestre che è la mamma. Lo dice la mamma. Guardalo. Ebbene, questo video finisce proprio qui. Fateci sapere se con i vostri sorelli... Mi sono cercata! Con i vostri sorelli e i vostri fratelli giocate a mosca cieca. E diteci se riuscite a prenderli oppure no. E speriamo che questo video soprattutto vi sia piaciuto e che vi abbia fatto divertire. E come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Ed attivare la campanellina per non perdervi nessun altro video. E lasciate tantissimi like! E condividete il video con tutti i vostri amici. Ciao! Ciao e al prossimo video!